Di Vinci Club dopo la prima sconfitta! Adesso si stanno scatenando! Flacomio è divile! Con il cuore gladiator! È col cuore gladiator Orlando! Dicono che stai bene con questa maglietta! Sì, ma qua mi fischiano in tribuna ogni palla che prendo! Chi è che ti fischia? I supporter dei gladiator! Aspetta, andiamo a Boucher, vediamo cosa fa in quest'azione! Schifo! Schifo? Vediamo un po', non credo! Vediamo un po'! Bravissimo! Come finirà? Salva, buon accorso! Allora Mirko, questa sconfitta qua mai prima? Sì, io ovviamente non ci conosciamo! Abbiamo lo sbeto e io ovviamente cambio! Ogni 12 minuti non si possono fare delle stai cambiare rapidi se vogliono arrivare alla fine! Adesso la squadra mi sembra in ripresa! No, no, ma ci dobbiamo organizzare! C'è tempo, c'è tempo! Loro ancora non giocavano un po' assieme! Sono tutti minchiati! Walter, come stai? Oh, parla con lui! Mi stanno minchiato, ma non mi fanno male! Non c'è tempo, tu ci non trovassi al secondo! Ma ti sei ripreso dalla botta della prima partita? Beh, ci ha tagliato un porco! No, un porco in senso buono! Vabbè dai, alla fine ti stai riprendendo, no? Quanti gol hai fatto? Cinque! Hai visto? Sei tornato, sei tornato! Ciao, Walter, è più tardi!